Sabato pomeriggio sarà presente qui a Fano il Vice Ministro Riccardo Nincini, nonché segretario nazionale del PSI e verrà perché a sostenere la mia candidatura alle campagne elettorali e regionali e si parlerà dei principali problemi che affliggono questo nostro territorio a partire dalla Fano Grosseto. Dove e a che ora si svolgerà l'incontro? Si svolgerà alla Marina di Cisera, al locale Fish House, alle 15 del pomeriggio di sabato. Per cui è un incontro aperto a tutta la cittadinanza e chi volesse partecipare saremo contenti perché aspettiamo numerose presenze proprio per discutere delle problematiche del nostro territorio.